Ci dicono che piccoli non significhi solidi. Non per noi che abbiamo i piedi ben piantati per terra, perché siamo una banca solida dal 1886. Per questo molti clienti sono diventati nostri soci e anche i loro figli e i figli dei loro figli. Sono Lorenza Bresciani, titolare della filiale capofila di Roveretto di Banca Popolare Volksbank. I nostri clienti ci apprezzano per questo e per il grande pregio di essere sempre dalla loro parte. Banca Popolare Volksbank. 100% regionale, 100% solida.